Sarà il Circolo Tennis Palermo a contendere la promozione in Serie A al Tennis Club Pistoia Targato Vannucci Piante. Nel primo spareggio playoff, infatti, i siciliani hanno battuto in gara secca in trasferta al Tennis Club Ambrosiano, qualificandosi così per questo atto finale. La formazione pistoiese invece è arrivata all'epilogo saltando la semifinale grazie al primo posto ottenuto nella fase a Gironi, una leadership che consentirà al team del presidente Luigi Brunetti di giocare la sfida di ritorno in casa, sui campi del Circolo Tennis e Neacotti. Prima però ci sarà da tentare il colpaccio o limitare i danni nell'isola. Le sei partite, quattro singolari e due doppi, sono in programma già domenica prossima. I ragazzi capitanati da Christian Belliti hanno tutte le carte in regola per cercare di tornare nella massima categoria. La presenza di giocatori di livello internazionale assoluto come Matteo Viola e come il tedesco Oscar Otte e lo splendido andamento nella prima fase, contrassegnata da cinque vittorie di fila e una sconfitta al risultato già acquisito, fanno ben sperare. Di fronte però a Delchi Virgili e compagni si ritroveranno un Circolo Tennis Palermo Coriaceo che unisce la forza dello spagnolo Carlos Gomez Herrera, numero 480 al mondo, con l'orgoglio dei tennisti di casa Omar Giacalone e Claudio Fortuna, vero e proprio zoccolo duro del team. Tra le due formazioni esistono anche due precedenti piuttosto recenti. Due anni fa, proprio in Serie A1, vi fu una doppia sfida di andata e ritorno che registrò una vittoria siciliana a Pistoia e un pareggio a Palermo. Ma nonostante sia passato poco, si può veramente dire che erano altri tempi.